Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori freccette elettroniche. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Carromco Bersaglio. Coloro che desiderano sviluppare un'area dedicata alle freccette in casa hanno un supporto rispettabile e piacevole nel modello Mirage 301. Quando collegato alla presa di corrente, si attiva in diversi metodi. Per un totale di 21 giochi con cui è possibile offrire la vita e gli ostacoli includendo circa 8 concorrenti nelle partite. Al numero 4, abbiamo Equinox Bersaglio Elettronico. Tra gli obiettivi molto popolari online, Sirius di Equinox ha tutto il necessario per assicurarsi il piacere ottimale quando da solo o con gli amici. In attesa dell'arrivo di buoni amici, infatti, Sirius ti permette di allenarti sfidando un avversario virtuale e selezionando 5 varie categorie per scoprire costantemente il miglior setup qualunque sia il tuo livello. Al terzo posto, abbiamo la Une Concept Dartmaster 180. Look elegante, racchiuso in una cornice che sembra un piccolo mobile in legno. Quando le due porte sono aperte, ci si trova di fronte a una varietà di riprese utile e pratica, orientata con un sistema informatico integrato attraverso il quale gestire ogni videogioco o difficoltà di modifica. L'adattabilità è un punto a favore dell'oggetto, in quanto ci sono 27 giochi diversi per una competizione che include circa 8 giocatori. Al numero 2, abbiamo l'Ultrasport Bersaglio Elettronico. Un altro suggerimento per l'acquisto di freccette elettroniche di qualità ad un prezzo appropriato è previsto per questo modello di Ultrasport. La presenza dei pannelli laterali, come discusso, è utile sia per salvaguardare la parete che il videogioco stesso dalla polvere o dallo sporco quando viene salvato. Qui puoi anche facilmente salvare le frecce fornite, tenendole sempre a portata di mano ed evitando di perderle. Le freccette, in particolare. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il One Concept Dart Master. Tra le migliori freccette elettroniche del 2020, il Dart Shamp disperso da One Concept può essere acquisito ad un prezzo competitivo e sono molto totali. A differenza di altri disegni comparabili, ci sono due comodi pannelli laterali qui che utilizzano un doppio vantaggio. Parano i colpi che, per questo motivo, non colpiranno muri o altri oggetti, e in secondo luogo, salvaguardano il bersaglio elettronico da polvere. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.